Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte il 17 febbraio scorso non è arrivata alcuna offerta dalla Ensamar, l'unica compagnia di navigazione che aveva manifestato interesse alla partecipazione in risposta all'indagine di mercato indetta per la individuazione di operatori economici da invitare. Le due procedure negoziate erano state precedute da una gara aperta indetta il 22 dicembre 2021 andata anch'essa deserta. Tale grave situazione che si aggiunge a quella già comunicata per i collegamenti da e verso le isole minori di San Pietro e la Maddalena, ha detto l'assessore dei trasporti della Regione Sardegna Antonio Moro, comporta e conferma l'esigenza di individuare una soluzione che garantisca diritto essenziale alla mobilità da e per le isole della Sardegna. Siamo basiti e preoccupati, ha detto da parte sua il segretario generale della FIT Cisle Ignazio Lai, per il comportamento delle società marittime che continuano a non presentarsi neppure alle procedure negoziate offerte dalla Regione Sardegna dopo che le gare sono andate tutte deserte. Non vogliamo pensare, ha aggiunto, che tutti gli armatori pensino di tagliare gli equipaggi o comunque di risparmiare sugli armamenti. Nel caso utilizzeremo ogni strumento a nostra disposizione per scongiurare tali strategie. Quanto all'intervento delle prefetture sollecitato dall'assessore regionale dei trasporti, per il segretario della FIT Cisle è una soluzione che ci preoccupa, perché la società che subentra nel servizio su richiesta dei prefetti può non essere obbligata ad assicurare tutti i posti di lavoro. Il contratto di lavoro marittimo ha concluso, così come quello aereo non prevede la clausola sociale, ovvero il passaggio da un'azienda ad un'altra.